L'orchestra dell'Istituto Comprensivo Lucatelle di Tolentino, diretta dal maestro Maurizio Gibellieri, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, addirittura vi è stato consegnato dal presidente Mattarella, quindi grande riconoscimento per la scuola e anche per i ragazzi. E' un riconoscimento per tutto l'Istituto, perché chiariamo che questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie al lavoro, non solo mio, dei ragazzi, ma di diversi insegnanti. Ricordiamo che nel nostro istituto la formazione musicale è molto importante fin dalla scuola materna e quindi ci sono colleghi, colleghe che alla scuola elementare hanno contribuito alla formazione di questi ragazzini, che poi all'unni si iscrivono e all'unne si iscrivono all'orchestra. Quindi questo premio è andato sicuramente al progetto a cui io ho lavorato in prima persona, ma è un riconoscimento per l'Istituto e un ringraziamento particolare alla nostra dirigente, la dottoressa Maramico, che ricordo il giorno in cui mi convocò e mi disse professore, è arrivato un bando per questo concorso, vediamo che cosa possiamo fare. Io le dissi, lo leggerò e le farò sapere e questo è il risultato poi. Giulia Cencetti, rappresentato l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Lucatelli, un bellissimo riconoscimento, una giornata particolare, come l'hai vissuta? L'ho vissuta in un modo molto bello perché è stata una grande esperienza che mi ha arricchito anche nel campo della musica, soprattutto. E anche incontrare il Presidente della Repubblica è stata una cosa molto bella, sia al punto di vista della musica, ma anche del premio che abbiamo ricevuto noi alunni dell'Istituto Lucatelli, perché ci siamo impegnati, con grande fatica e anche divertimento, per ottenere ottimi risultati, infatti. E così siamo stati premiati e molto contenti di ciò che abbiamo fatto. Ricordiamo che quale strumento suoni e da quanto tempo. Io suono il flauto dolce da tre anni, da quando ho cominciato le scuole medie, perché appena ho saputo che si poteva entrare in un'orchestra dell'Istituto, ho subito voluto partecipare per fare anche una nuova esperienza. E cosa rappresenta per te la musica? Prima, quando eri più piccola, avevi suonato qualche altro strumento, sempre il flauto? Prima, quando ero più piccola, mi piaceva molto ascoltare la musica, ma purtroppo non avevo studiato e praticato la musica. Però, grazie a questa esperienza, soprattutto, potrò amarla e ricordarla per sempre.